Ciao a tutti sono Sissi, bentornati sul canale per il video recensione della 9x16 di The Walking Dead, puntata intitolata The Storm, la bufera insomma, la tempesta di neve. Siamo arrivati al finale di stagione che più che un finale di stagione secondo me è stato un episodio un po' bonus perché secondo me il finale di stagione è stato l'episodio scorso, hanno voluto regalarci quest'altro episodio che io lo considero un po' un bonus, un episodio un po' di transizione tra questa stagione e la prossima insomma. Che cosa vediamo? Vediamo che il regno è caduto praticamente, sono scoppiati dei tubi, si sono creati degli incendi eccetera, questa conseguenza è una conseguenza ancora della morte di Harry e del fatto che Harry era un cretino perché se Harry andava a Diltop a fare quello che doveva fare, cioè a imparare a fare la manovalanza, probabilmente a quest'ora sarebbe ancora vivo, avrebbe aiutato a sistemare insomma la sua casa, il regno e probabilmente il regno sarebbe, cioè le cose sarebbero andate in modo diverso. E King e Ezekiel e la sua Queen Carol sarebbero felici e contenti, sarebbero ancora insieme, invece si sono mollati, abbiamo visto Ezekiel che è pure geloso di Daryl e niente, è geloso del rapporto che ha Daryl con Carol. Detto questo io non vedo un probabile futuro interesse amoroso da parte di Carol per Daryl perché secondo me è proprio un rapporto di amicizia profonda che ormai è da tanti anni che dura e facciamoci una ragione, non li vedremo mai insieme come coppia. Probabilmente se li vedremo insieme come coppia poi uno dei due morirebbe, sicuro come loro. Ma andiamo per gradi, dunque il regno è caduto ed è andato tutto in malora, quindi c'è una tempesta che sta arrivando. Devono andare da un'altra parte, quindi a Diltop, a quanto pare capiamo che le persone del regno vanno a Diltop. Si muovono anche Michonne, persone di Alexandria e persone di Diltop, vediamo Magna, Alden e Yumiko che aiutano a trasportare queste persone, a muovere queste persone anche perché di fuori ci sono ancora i sussurratori. Per tutto l'episodio devo dire che c'è stata un po', io ho sentito un po' questa tensione nell'aria dei sussurratori anche se poi abbiamo, come abbiamo visto, perché ce li hanno fatti vedere questi sussurratori alla fine della puntata per due secondi, abbiamo capito, abbiamo intuito che non erano neanche in zona perché con questo freddo, con questa tempesta sono andati probabilmente a ripararsi. Infatti anche io quando avevo visto la promo dell'episodio sinceramente ho detto, secondo me i sussurratori non li vedremo perché se stanno in mezzo alla neve così durante questa tempesta come fanno a sopravvivere? Infatti sono andati probabilmente a riparo. Dunque quindi devono muovere queste persone a Diltop però c'è questa tempesta che sta arrivando, le temperature precipitano e dunque sono costretti a oltrepassare i confini dei sussurratori. Prima si fermano addirittura al santuario per fare una sosta e decidono, qua c'è Carol che decide, mi è piaciuta abbastanza Carol in questa puntata e quindi qua c'è il re un po' titubante perché dice, perché stanno guardando insomma la piantina, la mappa e dicono se passiamo di qui arriviamo molto prima a Diltop che sono solo un paio di chilometri insomma e Zichiel è abbastanza titubante sulla cosa e dice, ma qua se passiamo scateniamo una guerra, se ci vedono poi cosa succede? Carol dice, no no questi confini li hanno fatti loro e non sono i nostri confini quindi li ha fatto capire, passiamo e basta, non ci sono storie. Quindi sono passati e sono arrivati poi a Diltop dove il re e Zichiel e Carol si sono separati, definitivamente non si sa a quanto sembra, Carol torna ad Alexandria con il gruppo di Alexandria e in questa puntata come dicevo prima Carol mi è abbastanza piaciuta però avrei voluto che insomma ammazzasse Lydia, lo so che probabilmente molti di voi non sono d'accordo con me io già l'altra volta avevo detto che volevo vedere Carol sbroccare quindi non lo so, un colpo di testa mi sarebbe piaciuto vederlo anche perché li abbiamo viste più volte in più scene mentre stanno facendo insomma la traversata in mezzo alla neve che Lydia addirittura ci approva dei sensi di colpa per la morte di Henry e quindi l'abbiamo vista in una bellissima scena con uno zombie impalato in uno stagno ghiacciato che va lì si tira sulla manica e cerca insomma un po' di suicidarsi poi cambia idea e continua a sparire, continua ad allontanarsi che io ero tutta nella live come Bonolis che dicevo ma dove va? Ma cosa fa? cioè sembrava un'imitazione di Bonolis e niente e quindi questa continua a sparire dopodiché ha cambiato idea e Carol come al solito la va a cercare perché adesso i babysitter di Lydia sono diventati Daryl e Carol in toto praticamente Carol la va a cercare e lei gli dice no devi uccidermi, devi farlo tu perché sennò questa storia non finirà mai e di qua e di là qua Carol si commuove, piange e decide di non ammazzarla e ci è andata male anche questa volta insomma però me lo aspettavo che non l'ammazzasse insomma anche se volevo il colpo di testa non è successo e niente quindi vabbè ad Alexandria invece la cosa è un po' diversa perché praticamente non funzionano più i pannelli solari non va il riscaldamento perciò devono riscaldarsi alla vecchia maniera con i camini insomma tutti raggruppati in varie case vediamo che nella casa dove si sono raggruppati il quadrangolo amoroso si sono portati pure Negan Negan grandissimo protagonista della puntata il mio preferito in assoluto di The Walking Dead il mio personaggio preferito da sempre, da quando l'ho visto che io adesso non voglio che mi venite a dire tutti adesso tutti sicuramente saranno oh che carino Negan è troppo coccolino, puccioso con Judith andate a fanculo cioè veramente adesso si disiscriveranno tutti andate a quel paese perché io Negan è mio, è mio e lo amo dal primo momento in cui l'ho visto sto scherzando non vedo l'ora comunque che ricominci a spaccare la testa alla gente come sono dark oggi cioè oggi è da un po' di tempo questa parte che voglio vedere la gente morire e vabbè comunque niente praticamente c'è questo quadrangolo amoroso con anche Judith, Ergei, Negan in questa casa a un certo punto succede un incidente la canna fumaria è bloccata non si può accendere il riscaldamento non si può accendere il fuoco quindi devono attraversare devono andare a casa di Aaron fuori c'è una tempesta pazzesca che io di tempeste così non ne ho mai viste e niente quindi solo che Judith è infissa col cane di Daryl che infatti non riesco a capire perché l'abbiano lasciato di fuori insomma questo cane non si trovava da nessuna parte quando si sono rintanati, rinchiusi e quindi mentre stanno facendo l'attraversata che sono tutti lì attaccati la corda che stanno andando a casa di Aaron Judith sente il cane sente il cane e cosa fa? ovviamente sa lontana sa lontana per andare a cercare questo cane io in un'altra situazione avrei detto che è mossa idiota però stiamo parlando di cane quindi andava salvato andava salvato cane già probabilmente hanno lasciato a morire quegli altri hanno lasciato a morire i cavalli al santuario perché non se li sono portati a dietro quindi già lì meno male che non hanno fatto vedere la scena perché io l'ho già detto che non voglio più vedere neanche un animale morire in The Walking Dead e in tutte le altre serie che guarderò e niente quindi si è allontanata per cercare cane e Negan ovviamente l'ha seguita l'ha seguita e si è ferito alla gamba perché lì intanto c'era proprio in mezzo alla neve c'era anche tipo una specie di bufera con il vento volavano le cose e quindi niente l'ha trovata l'ha riportata indietro l'ha riportata in salvo e tutto bene col che finisce bene qui quando è tornata anche Michonne l'abbiamo vista che è andata a trovarlo a Negan l'ha ringraziato qui c'è stato un dialogo tra loro che io l'ho vista come un'apertura un'apertura da parte di Michonne a Negan anche con il fatto in cui per la frase che gli ha detto quando gli dice tipo che nessuno sa di essere cattivo quando parlano insomma della brava gente che si mette contro i cattivi eccetera lui gli dice sì ok però il fatto è che nessuno pensa di essere cattivo quindi lì vediamo anche Michonne che fa una faccia che molto probabilmente inizia a capire anche il punto di vista di Negan e niente quindi io l'ho vista come un'apertura e probabilmente sarà sarà la strada per la libertà di Negan e niente io non vedo l'ora di vederlo ancora in azione lo voglio vedere di più voglio che diventi parte attiva ritorni ad essere parte attiva della serie insomma e niente poi abbiamo visto che comunque il suo charme la sua simpatia il suo sarcasmo non l'ha perso anche con tutte le battute che ha fatto a padre Gabriel perché abbiamo pure beccato Eugene che se la rideva sotto i baffi e niente quindi vabbè ci piace il personaggio di Negan a me da sempre mi è sempre piaciuto adesso voi che venite qua a dirmi che vi piace Negan e che lo state rivalutando solo perché per Judith siete arrivate un po' troppo tardi ve lo dico già io e il mio amico che commenta sempre sotto Negan non so se mi stai ascoltando noi a noi Negan non ci è piaciuto fin dall'inizio bene quindi alla fine dell'episodio come vi ho detto prima vediamo i sussurratori che si sono scongelati e vediamo che che Alpha si fa frustare da Beta prima Beta gli lecca il culo e gli dice no sei forte perché lei è un po' dice ho sbagliato ho fatto degli errori dice no ma dai che sei forte infatti ho detto voglio anch'io un Beta personale poi quando ho visto che la frustavo ho detto magari no e niente quindi si autoinfligge queste punizioni punizioni che infliggeva anche a Lydia perché abbiamo visto i suoi segni probabilmente mi sembra che ce li aveva fatti vedere e niente quindi dice mi devo preparare per quello che verrà ma che cosa verrà si sono accorti che sono passati tra l'altro quando piccola parentesi quando il gruppo dice dobbiamo passare e dobbiamo passare ma non farci vedere ok hanno ucciso mille zombie praticamente hanno tagliato hanno spaccato spracassato la testa mille zombie durante e quindi io penso che quando la neve si scongeli che infatti quando la neve si è scongelata si sia visto che hanno lasciato dei resti insomma probabilmente si saranno anche accorti i sussurratori che qualcuno è passato di lì certo non hanno prove certe che siano stati loro però qualcuno è passato di lì volevo fare un'altra piccola parentesi che praticamente questo episodio mi ha mi ha ricordato tantissimo il trono di spade questi zombie congelati mezzi ghiacciati mezzi tutti mi hanno ricordato che la stagione del trono di spade incombente che incombe e tra due settimane stiamo qui ancora con il trono di spade perciò chi segue il trono di spade si ricordi che io faccio anche il trono di spade quindi il format è uguale live reaction e recensione dell'episodio quindi ci sono stati tanti richiami secondo me anche il trono di spade non so se hanno voluto fare un omaggio o che cosa tra l'altro c'era uno zombie pure per terra quello con i capelli lunghi biondi bianchi che io nella live ho detto Daenerys sei tu ci assomigliava molto una Daenerys zombificata e niente quindi ultimo fatto saliente di questa recensione lo troviamo proprio negli ultimi minuti negli ultimi secondi della puntata dove praticamente vediamo Ezekiel e Judith parlare alla radio tema della radio ricorrente anche in questo episodio le hanno fatte vedere molto queste radio dall'inizio che c'era Ezekiel che parlava potrebbe diventare un DJ uno speaker radiofonico no ma adesso tanto Ezekiel si mette a capo di Hilltop perché come abbiamo sentito quando stavano camminando ancora il consiglio non ha fatto un capo un leader eccetera adesso è arrivato Ezekiel a salvare la situazione seppure liberato di Carol si sono mollati adesso si concentra sul lavoro diventerà il re di Kingtop come dice Jerry e vabbè quindi alla fine vediamo che c'è questo scambio alla radio tra Ezekiel e la nostra Judith e quando se ne vanno dicono passo e chiudo passo e chiudo ciao ciao tutti se ne vanno sentiamo qualcuno alla radio che dice c'è qualcuno sto trasmettendo da una radio da una frequenza libera mi sentite è una donna ma chi è questa donna ci sono varie cioè mi sono fatta qualche idea cioè potrebbe essere allora secondo me non è la puzzona la Anne Jedis come cavolo si chiamava il terzo nome secondo me non è lei perché non mi sembrava la sua voce però potrebbe essere qualcuno comunque di quel gruppo lì insomma nel gruppo dove è andato a finire Rick e la puzzona potrebbe essere qualcuno di quelli e spiegherebbe il motivo per cui nella prossima stagione piccolo c'è piccolo spoiler la news è fuori a quanto pare Michonne lascerà come ha lasciato Maggie insomma Maggie ritornerà però Michonne non si sa bene cosa vuole fare comunque ha detto che lascerà The Walking Dead quindi io nella teoria che mi sono fatta nella mia testa è che adesso sentendo questa qui alla radio probabilmente sarà qualcuno che è in contatto con Rick insomma magari qualcuno lì di dove sta Rick non so come si chiami questo nuovo gruppo e quindi magari si metteranno in contatto e Michonne magari partirà alla volta di ritrovare il suo amore non lo so oppure ho pensato anche che potrebbe essere c'è quest'altra teoria potrebbe essere vera però è un po' più screditata cioè io me la sento di metterla al secondo posto potrebbe essere anche un collegamento con Fear The Walking Dead perché abbiamo visto nella promo della stagione nuova di Fear della stagione 5 che c'è Alicia che parla alla radio e comunque abbiamo visto anche nella scorsa stagione che il tema della radio anche in Fear c'è la radio del camion eccetera radioline la radio del camion la radio di quella la sul blindato che adesso mi sfugge il nome cioè è abbastanza ricorrente anche in Fear il tema della radio però quello che dico io è perché adesso cioè nel senso potevano potevano fare un crossover molto prima con Fear adesso Morgan addirittura ha deciso perché alla fine per chi non segue Fear alla fine della scorsa stagione c'era Morgan che aveva deciso di tornare ad Alexandria insomma tornare in quella di Atlanta e voleva portarsi addietro chi era disposto a seguirlo insomma solo che alla fine dell'episodio ha deciso di rimanere lì perché trovano un posto ha deciso di rimanere lì ad aiutare insomma la gente che c'è lì e quindi il piano di tornare indietro non non era più contemplato quindi però sono passati anche perché Fear the Walking Dead era come tempo come insomma come temporalità era a pari con The Walking Dead prima cioè non dopo questo salto temporale di sei anni dalla sparizione di Rick quindi sono passati anche sei anni quindi c'è anche da vedere che cosa è successo lì bisogna anche vedere adesso cioè io penso che comunque adesso che torna Fear io credo che siano ancora indietro di sei anni perché non credo che facciano anche in Fear il salto temporale di sei anni anche perché abbiamo visto che arriverà anche Dwight in Fear quindi io non credo che Dwight sia stato in giro sei anni per poi ritrovarsi in Fear quindi credo che Fear sia ancora indietro di sei anni tutti questi salti temporali a parte che è un'altra serie anche se è uno spin off è un'altra serie però mi mandano un po' in confusione e quindi niente non so fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate insomma di questo finale di stagione appunto di chi è questa questa alla radio che teorie avete voi sentiamoci nei commenti mi raccomando siamo arrivati alla fine della stagione di The Walking Dead però come vi ho anticipato prima non è un addio fino ad ottobre perché noi ci rivediamo tra un paio di settimane quando ricomincia il trono di spade quindi se seguite il trono di spade mi trovate qui praticamente il 15 il 15 lo fanno in Italia inizia il 14 di aprile in America quindi il 15 quindi tra il 15 e il 16 aspettatevi il video della live reaction e ovviamente recensione il format è sempre lo stesso quindi andremo a fare la la stagione finale del trono di spade che anche quello finisce poi chissà cosa chi prenderà il trono di spade nelle mie recensioni e poi quando finirà il trono di spade penso verso giugno così quando inizierà ci sarà anche Fear The Walking Dead e poi ad ottobre ricomincerà The Walking Dead quindi qui non ci fermiamo mai perciò io vi consiglio di attivare la campanellina sotto che trovate sotto il mio video per essere sempre aggiornati con i video che escono sul canale o se no ogni tanto passate di qui mi raccomando se non seguite Fear e non seguite il trono di spade magari passate lo stesso a fare un saltino sotto i miei video mi dite ciao sì sì volevo farti un saluto che io sono felice lo stesso e niente io vi mando un bacione come al solito sentiamoci nei commenti lasciatemi il like iscrivetevi se non siete ancora iscritti e ci vediamo alla prossima ciao mua grazie a tutti grazie a tutti